Buonasera, queste sono le prime immagini dell'attentato avvenuto in piazza della loggia. Queste notizie sono ormai solite nella cronaca del nostro paese. Quattro banditi, una macchina rubata e 80 milioni arraffati in pochi minuti. Un'altra clamorosa rapina della banda di... Negli anni 70 non può essere un caso che nello stesso periodo di tempo Valanzasca a Milano, Felice Magnero nel Veneto, la banda della Magliana a Roma, la banda Battestini in Abruzzo. Sono fenomeni che nascono tutti nello stesso periodo e che quindi debbono avere una matrice comune. E' semplicemente il danaro. Il danaro è l'affermazione di quelli che ne sono i protagonisti, senza troppi scrupoli nel premere il grilletto. In diverse parti della penisola è chiaro a tutti che ci sono delle opportunità criminali che prima non esistevano. La criminalità si sviluppa se ci sono alti benefici e bassi costi.